Buonasera, buonasera, piacere Alissa, come si chiama? Dux, ha 7 anni, veniamo qui da Biella, abbiamo visto i vostri video e abbiamo una situazione che si attacca con gli altri cani, non ci piace quando vi andiamo a fare una passeggiata e per noi viene una cosa stressante, condizionato da altri cani o animali che siano abbastanza alla taglia grossa come la sua, noi l'abbiamo salvato da un canile a 3 anni e mezzo, poi ho avuto una brutta esperienza perché abbiamo visto che era tutto a mano andato, magro, pelle e ossa, poi quando ho visto la foto è venuta da piangere e l'ho voluto salvarlo, e da lì abbiamo deciso di tenerlo, visto che comunque con noi persone, umani, tutto tranquillo, molto cocoloso, si può fare tutto, nel nucleo familiare comunque è tutto ok, questo è tranquillo proprio. Ho partito subito in attenzione subito, ok? Cosa hai notato a livello corporeo? Ho notato che scodinzola, è pronto per l'attacco. Proprio ad antenna. Poi per quanto riguarda proprio pistura corporea? Ho messo già quelle zanne per terra, è pronto per attaccare. Ok David, se tu vorrai poi affrontare questo percorso, andremo proprio a lavorare su questi punti, come lavorare vicino ad altre persone, altri cani, andremo a capire il comportamento che può avere il tuo cane in diverse situazioni. Io ti auguro un buon bautest, prova a capire quello che ha da dirti poi il nostro addestratore, e io ti auguro una buona giornata. Va bene. È stato un piacere. Altrettanto. Grazie. 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 Grazie.